E la domanda ultima che faccio sempre a tutti, pensi che il meglio debba ancora venire? Bella questa domanda, molto bella. No. No. Cioè no nel senso, è una domanda molto cristiana dove vede il meglio sempre nel futuro. Il passato è sempre un passato di peccato, il presente è redenzione. Sì, non l'ho mai pensato in questa... Io la vedo sempre così, la speranza, c'è una parola che odio è speranza, è la parola dell'immobilità, io spero che qualcuno faccia qualcosa, che è la parola peggiore che ti può capitare, perché se vuoi fare qualcosa comincia a fare qualcosa, invece sperare, speriamo che piove. E quindi non lo so, non ci credo molto nel futuro, credo nel presente molto e vedo un passato invece su cui contare, di dire vabbè... Il mio bagaglio. Il mio bagaglio, la mia esperienza, poi mi preparo. C'è una parola fortissima che mi risuona molto nella testa, di un popolo che ha governato per tremila anni, si è sentito in dovere di coniare una parola che noi non abbiamo. Adutrunque parato, no? I latini, i romani dicevano, ha incognato una roba che noi dobbiamo usare in diverse parole, no? Preparato a ambedue le cose, io sono preparato a ambedue le cose. Che tu venga come nemico, che tu venga come amico, io sono preparato, no? Questo è... E in questo è una bellissima risposta alla domanda. Prepararsi, poi io cosa sarà il futuro, francamente non lo so, ma io sono preparato, che venga da nemico, che venga da... Ottima, ottima risposta, secondo me. Io sono preparato. Preparato. Grazie Paolo, mi ha fatto molto piacere averti qua, è stato veramente un piacere, ti regalo la maglietta, non puoi andare via senza la maglietta. È XXL, sì. XXL, è la più grande. Va bene. È la maglietta di marketing garage, quindi non puoi andare via senza. Grazie. Voglio un video sulla Jenny Zero, poi, con la maglia di marketing garage. Grazie. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Ciao a tutti.